Ciao, mi chiamo Melissa, frequento l'indirizzo per i servizi per la sanità e per l'assistenza sociale dell'Istituto Passimiri. Ho scelto di frequentare questa scuola perché mi piacerebbe in futuro aiutare gli altri, le persone anziane, i bambini e le persone più debole e svantaggiate. Infatti oggi c'è sempre più bisogno di figure professionali che aiutano nei servizi le persone in difficoltà. Le materie importanti di questo indirizzo, oltre le materie comuni a tutti i studenti, sono scienze umane e sociali che studia il comportamento dell'uomo e metodologie operative che studia la comunicazione, la relazione d'aiuto, l'ascolto attivo e l'empatia con l'altro. Questo indirizzo offre molte opportunità di lavoro, ad esempio strutture ospedaliere, case famiglia, case riposo, assidemido eccetera, oppure finito il quinto puoi fare qualsiasi corso di università. Io questa scuola la consiglierei alle persone che hanno piacere di lavorare in equip, quindi in gruppo, in rete, oppure chi vuole continuare a studiare la disciplina medico-sanitario e il mondo della comunicazione per garantire e migliorare l'interazione con gli grazie!